Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto presentando è un romanzo per bambini e ragazzi a partire dagli 11 anni, che segue le avventure di una ragazza che si sta preparando ad un importante rito ebraico che segna il passaggio all'età adulta. Il testo affronta temi importanti per l'età adolescenziale, come l'amicizia, la crescita personale, la presa di decisioni difficili e l'equilibrio tra desideri personali e relazioni significative. Inoltre, offre anche una finestra sulla cultura ebraica. La trama del libro Non si è invitata al mio Batte Mizav, della scrittrice Fiona Rosenblum, pubblicato dalla casa editrice Gallucci Bross, è la seguente. Non manca molto al Batte Mizav di Stasi Freedom. Quel giorno canterà un brano della Torah, di fronte alla sua comunità riunita nella sinagoga e diventerà ufficialmente adulta. Ovviamente sarà anche il giorno di una grande festa e Stasi sogna di fare il suo ingresso sulla pista da ballo accompagnata da Andy Goldfarb, il ragazzo più figo della scuola. Così figo che anche la migliore amica di Stasi, Lydia Katz, non è immona al suo fascino. Come si fa a scegliere tra un'amica e un fidanzato? Ci sarebbe davvero bisogno di un intervento divino. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato e se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video ed aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie, iscriviti al canale.